Buonasera e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Apriamo subito con la cronaca con un terribile incidente mortale sulla corsia a nord della 1. Avvenuto quest'oggi due le persone che hanno perso la vita al chilometro 328 dopo lo svincolo Valdarno. Una terza persona è stata trasportata all'ospedale di Careggi in eri soccorso in gravi condizioni. Otto i mezzi coinvolti, la circolazione è rimasta bloccata per ore in entrambe le direzioni, tra cui anche un'ambulanza in emergenza diretta all'ospedale Meier. Tutti i dettagli nel servizio di Greta Settimelli. Sono state pesantissime le ripercussioni sul traffico per l'ennesima tragedia della strada. Due le persone che hanno perso la vita lungo il tratto dell'autosole tra Valdarno e Incisa. L'incidente ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti e quattro auto. Si è verificato al chilometro 328 della corsia nord. Il bilancio è gravissimo. Due i morti, un uomo di 78 anni e una donna di 79, marito e moglie, toscani. C'è anche un altro ferito grave, un uomo di 47 anni, trasferito all'ospedale Fiorentino di Careggi in codice rosso e un 22enne ferito in maniera più lieve. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, da Figline Valdarno e la squadra del distaccamento di Montevarchi, del comando di Arezzo. Sono stati loro ad estrarre i corpi dalle lamiere. Pesantissimo il bilancio sotto il profilo del traffico. La circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo in entrambe le direzioni, con conseguenti file di molti chilometri, sia in A1 che lungo la viabilità alternativa. È rimasta bloccata anche un'ambulanza che stava effettuando un trasferimento urgente da Foligno, un bambino, verso l'ospedale Meyer di Firenze. Sul posto la polizia stradale e il personale di autostrade per la gestione della viabilità e per agevolare l'arrivo dei mezzi di soccorso. La corsia a sud è stata poi riaperta, ma le ripercussioni sul traffico si sono avute per l'intero pomeriggio. Archiviato il caso di detenzione di materiale pedopornografico che ha coinvolto il comandante della compagnia dei carabinieri di Bibiena, Giuseppe Barbato, dopo un anno di indagini, si è scoperto che il materiale in questione sarebbe stato legato a indagini che il militare stava svolgendo. Chiara Sadotti. Oggi ha dovuto subire quello che tutti abbiamo visto e penso possiamo immaginare la notizia di quel genere per una persona in vista come lui, con il lavoro che fa, comandante di una compagnia, è stata davvero pesante. Su di lui, comandante della compagnia dei carabinieri di Bibiena, una delle accuse più terribili, forse ancora di più se tocca un militare, detenzione di materiale pedopornografico. Un incubo personale e professionale lungo un anno dal quale oggi il capitano Giuseppe Barbato si è risvegliato con l'archiviazione del caso. Per lui è stata una liberazione, anche se, come possiamo immaginare, per noi era un esito scontato. Tutto era iniziato il 6 ottobre 2023 a seguito di una segnalazione di Google. File di natura pedopornografica sarebbero stati rilevati nei suoi account, da qui l'avviso di garanzia. I file che lui sicuramente ha intercettato, ma esclusivamente per motivi professionali. Dagli accertamenti della postale di Firenze però non emerse nulla, medesimo risultato anche dalla coppia forense dei dispositivi, nessuna traccia del materiale segnalato. Non è stato trovato nulla, tanto che la richiesta di archiviazione del PM ha sottolineato che non sussisteva alcun elemento dell'ipotizzato reato. Quindi in fin dei conti stiamo parlando e abbiamo parlato per mesi di una questione totalmente inesistente ed è questo che alla fine deve far pensare molto. La notizia tra Pelola Stampa e la vita del capitano, tra l'altro impegnato su ogni fronte del cybercrime e della sua famiglia, fu stravolta. Ne ha pagato fortemente le conseguenze a livello personale, familiare, lui, la moglie, i figli. Insomma è stato un momento molto lungo e terribile. Il capitano Barbato non è mai stato sospeso semplicemente posto in malattia. Ha avuto delle problematiche anche importanti che ad oggi sono risolte però l'arma non lo ha mai sospeso dal servizio. Attualmente gli è stato proposto un incarico in un'altra regione, decisione che i legali chiederanno di rivalutare in sede amministrativa. Se il trasferimento era dettato, ritengo, da quello che abbiamo letto, da motivazioni strettamente connesse a questa procedura, bisognerà capire se, visto l'esito, rimarrà in essere questo provvedimento oppure no. Ancora un fine settimana caratterizzato da furti in appartamento. È avvenuto a Derezzo, nella zona tra Trento Trieste e zona Fonterose. I ladri sono entrati in azione approfittando del festeggiamento di una cresima. Oltre al bottino sono stati registrati anche ingenti danni, porte scassinate e finestre divelte a causa dell'irruzione dei malviventi. è stata messa a soquadro quindi l'abitazione. I mobili sono stati svuotati del loro contenuto e sparso per Terna. E questo è uno dei tanti furti che si stanno svolgendo purtroppo in questi ultimi giorni nella nostra città. Falsa partezza invece per il Click Day, oggi per il voucher per i campi estivi, per la fascia 12-36 mesi all'apertura delle 9. e questa mattina qualcosa non ha funzionato. I genitori che stavano provando a connettersi sono rimasti di fronte a una pagina vuota che non si aggiornava. Così poco dopo sulla piattaforma online del Comune di Arezzo apparsa la scritta che il tutto sarebbe stato riaperto alle ore 12. E a dare la spiegazione è stato il Vice Sindaco Lucia Tanti a causa di un rallentamento dell'integrazione con il sistema regionale di autentificazione speed per l'inserimento delle domande da parte dei cittadini è stata temporaneamente disabilitata l'emissione al fine di evitare falsati ordini di arrivo. Il servizio è effettivamente ripreso dopo le ore 12 di oggi. Ultimo incontro del ciclo di lezioni di educazione civica per le scuole medie e superiori promosso dall'associazione Intratevere et Arno. a parlare con gli studenti è tornato il giornalista Ivo Brocchi che ha approfondito il tema del cambiamento della comunicazione negli ultimi 50 anni. Sentiamo. L'informazione ha fatto lo stesso passo della società nel nostro caso in particolare c'è stato un cambiamento tecnologico spaventoso come quello industriale dell'Ottocento per la manifattura da noi ancora più grande pensiamo 50 anni fa era tutto analogico oggi è tutto digitale. Si è concluso con i cambiamenti negli ultimi 50 anni dal 74 ad oggi nel mondo della comunicazione il ciclo di conferenze e di educazione civica che ha visto coinvolti gli istituti superiori della provincia di Arezzo organizzati dall'associazione Intratevere et Arno. Mentre 50 anni fa c'era l'informazione che dava informazioni oggi ci sono gli utenti che entrano nell'informazione mescolando tutto poi ci sono come sempre quelli che ci fanno su questo argomento i soldi o il potere e così si è mescolata la comunicazione con l'informazione creando il caos totale. Oggi francamente l'informazione è libera ma non sta bene di salute perché questa libertà ha aumentato anche la confusione del messaggio la confusione non rende mai chiaro quello che devi dire o che devi dare ai cittadini l'informazione cioè dare le notizie e insieme alle notizie i commenti possibilmente separati. Il bilancio è quanto mai positivo e già si pensa al prossimo anno. Ottimo bilancio un bilancio positivo e se fosse un'azienda si direbbe che c'è stato un forte utile un importante utile perché delle centinaia forse anche migliaia di studenti delle scuole medie superiori che hanno assistito a queste lezioni di educazione civica da questi studenti non abbiamo avuto nessun commento negativo abbiamo avuto attenzione e questo ci ha dato una grande soddisfazione. Chi sa mai se qualcuno di questi ragazzi domani avrà voglia di dedicarsi alla cosa pubblica cioè di fare politica. A chi insegna che cosa lascia questo tipo di esperienza? Una grande soddisfazione e anche nostalgia perché a me ma credo anche a tutti gli altri insegnanti che più o meno alla mia età ritorna in mente ritorna in mente gli anni del liceo gli anni della scuola vedere tutti questi ragazzi che attenti seduti molti con le braccia concerti nessuno col telefonino in mano insomma da gioia la parola giusta è questa. Contenta perché c'è stata anche una grande continuo a insistere partecipazione dei docenti i quali hanno lavorato alcuni prima e quindi si è avuto scuole in cui i ragazzi sono intervenuti hanno partecipato e alcuni invece hanno fatto tesoro di quanto ascoltato hanno preso appunti e hanno lavorato dopo tanto che può darsi che allo scientifico esca anche dei quaderni di educazione civica e per cui sono molto contenta comincio ora a riprogrammare per il prossimo anno che chiaramente avrà anche delle differenze perché ogni anno può insegnare diciamo come aggiustare le cose per l'anno dopo quindi io ringrazio anche tutti voi e ringrazio anche le scuole che hanno aderito e l'intera lezione andrà in onda sulla nostra emittente proprio poco dopo il nostro telegiornale torna il bando per ottenere da parte delle famiglie la frequentazione gratuita degli asili nido della nostra regione vediamo come nel prossimo servizio di Chiara Sadotti torna per il secondo anno educativo il bando nidi gratis 2024 2025 che quest'anno può contare su uno stanziamento di 40 milioni di euro le domande possono essere presentate fino alle 18 del prossimo 27 giugno le famiglie avranno a disposizione l'applicativo online regionale appositamente dedicato a questa procedura l'intervento è cofinanziato attraverso il programma regionale Fondo Sociale Europeo di cui costituisce misura di rilevanza strategica potranno accedere in nidi gratis le famiglie con ISE inferiore 35 mila euro i contributi saranno assicurati per la frequenza dei nidi di infanzia spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare il contributo massimo erogato dalla regione per ogni bambino è di 527,27 euro per ciascuna mensilità la regione ha già reso disponibile l'elenco delle amministrazioni comunali che hanno aderito al bando regionale dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati presso i quali sarà possibile beneficiare dei contributi sono in tutto 230 su 273 comuni toscani per un totale di 805 servizi nello scorso anno educativo sono stati quasi 13.500 le bambine e i bambini che hanno usufruito della misura rimaniamo con i bambini perché AgriKids è la giornata conclusiva del progetto lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare organizzata da AES impianti zero sperico che coinvolgerà centinaia di bambini per imparare il valore del cibo e al corretto riciclo dei rifiuti sentiamo troveranno dalla cucina zero spreco la fattoria didattica troveranno degli esperti di igiene sanitaria che gli insegneranno alcuni comportamenti molto importanti proprio per preservare la salute troveranno poi l'osservatorio solare aperto con gli astrofili i meteorologi troveranno un'azienda proprio rivolta ai propri cittadini perché è un'azienda pubblica di tutti dalla semina alla caseificazione ma anche cucina e reciclo addirittura nello spazio tutto nell'ottica ovviamente dello zero spreco all'impianto di recupero di Sanzeno arriva una maxifattoria giovedì 6 giugno per la prima edizione di AgriKids la giornata conclusiva del progetto lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare 800 i bambini coinvolti 25 i laboratori attività didattiche e sportive noi vogliamo trasmettere alle nuove generazioni quello che è il valore del cibo il valore del cibo attraverso anche l'esperienza e la conoscenza di quello che è un mondo agricolo quindi fanno varie esperienze durante l'anno e in quella giornata a Sanzeno ci sarà appunto questa mega fattoria ma anche un hub del riciclo quindi un'educazione del valore del cibo e del riutilizzo del cibo quindi ringraziamo anche Zero Spreco per aver collaborato e tutte le tantissime realtà retine associazioni che con noi portano avanti questo progetto i frutti si cominciano già a vedere perché vediamo sensibilizzazione da parte dei bambini ed è importantissimo oggi sempre di più trasmettere quello che è un valore del cibo il valore del cibo buono del cibo vero del cibo fatto dalla mamma come si faceva una volta è fondamentale parlare ai bambini perché i bambini sono gli adulti di domani però attenzione adulti bisogna impegnarsi tutti noi viviamo come ci ha insegnato il professore Albertini in una sfera e ci siamo tutti dentro quindi tutti quanti devono essere parte dell'equipaggio nessuno si deve far trasportare ognuno il suo e sono cominciate le serate targate conf commercio che aprono frazioni e strade cittadini al pubblico anche la sera con spettacoli shopping musica ballo cibo e intrattenimento sabato primo giugno sarà la volta di San Leo da vivere nella sua terza edizione Chiara Salotti una serata di shopping musica intrattenimento street food e animazione per tutte le età San Leo torna così a brillare sabato primo giugno la frazione alle porte di Arezzo ospiterà la terza edizione di San Leo da vivere evento targato col commercio in collaborazione con gli operatori della zona è stata fortemente voluta dai commercianti quindi dal tessuto imprenditoriale di questa bellissima frazione di questa comunità dove c'è tutto praticamente si ritrova proprio tutto quindi è una piccola città all'interno della città e quindi un quartiere molto animato ma soprattutto c'è un grande senso di appartenenza e una grande unione tra i commercianti gli imprenditori e comunque coloro che ci abitano ci sono delle realtà importanti come ricordavi anche per quanto riguarda effettivamente il terzo settore quindi anche momenti di aggregazione che vanno oltre poi solo ed esclusivamente l'aspetto economico che però collaborano insieme come il pallai come ricordato come i circoli piuttosto che altre attività per il rinserimento anche di persone svantaggiate questa è un'iniziativa noi ci abbiamo fortemente creduto è un modello semplice ma nella sua semplicità riscuota un grandissimo successo soprattutto perché è un modello diciamo di coinvolgimento con gli operatori che operano 365 giorni nei posti dove decidiamo di fare questi tipi di festa che in qualche modo tende poi a valorizzare questa voglia di stare insieme quindi questa voglia di passare qualche ora diciamo in dispensieratezza in famiglia ma trovando poi queste attività che ci sono queste attività vere che tutti i giorni sono qui e quindi è una riscoperta a volte anche una scoperta di attività significative che poi ci sono poi a pochi metri o a pochi passi da noi il programma è ricco e variegato dalle 17 sino a mezzanotte i negozi e i locali proporranno offerte speciali e promozioni poi spettacoli buon cibo per i più piccoli un'area giochi e laboratori creativi di cucina per l'occasione torna ad aprire le sue porte anche la struttura del pallaio che dopo i numerosi atti vandalici è tornata a nuova vita grazie ai ragazzi del gruppo sportivo San Leo Montione passiamo alla pagina sportiva con il toto allenatore per quello che riguarda il Cavallino sono in corso infatti colloqui e confronti con l'ex tecnico del Rimini Emanuele Troise che alla stampa romagnola ha confidato che c'è la possibilità di arrivare a una definizione dell'accordo con l'Arezzo poi nel calcio si sa fino a quando non ci sono le firme tutto può accadere in realtà il tecnico è un passo dal diventare il nuovo tecnico della squadra Amaranto lo stesso direttore sportivo Kuto lo è rimasto colpito positivamente dal faccia e faccia con Troise che risponderebbe in pieno al profilo che il direttore sportivo del Cavallino ha in testa per il successore di indiani giovane in ascesa con fame e voglia di affermarsi ma che al tempo stesso sappia lavorare con i giovani la fumata bianca è attesa entro il fine settimana quando le parti si reincontreranno Troise però avrebbe anche altri corteggiatori fra questi Pescara Pontedera il neopromosso Campobasso ma i progetti e le ambizioni del presidente dell'Arezzo Guglielmo Manzo stuzzicano l'appetito di Troise intanto negli altri spogliatoi Lentella decide di proseguire con Gallo la Torres potrebbe divorziare da Greco il Perugia scelto di tenersi stretto Formisano il Campobasso invece insegue anche Braglia il Sestri Levante si è affidato a Scott ed infine a Pesaro si va verso la conferma di Mister Stellone e chiudiamo con questa notizia che riguarda il gruppo sportivo Chimera San Lorentino che spegne 50 candeline dalla sua fondazione infatti la squadra giallorossa festeggerà domani il suo mezzo secolo dal 1974 al 2024 con due iniziative alle 18.30 una tavola rotonda al quartiere di Porta del Foro dal titolo Quali valori nello sport di oggi a cui parteciperà anche l'assessore comunale di Arezzo Federico Scapecchi e il delegato provinciale del CONI Alberto Melis e poi una grande cena a cui parteciperanno centinaia di ex calciatori tecnici dirigenti che hanno indossato i colori del Chimera San Lorentino tutto questo in via della palestra sempre domani sera nei locali del quartiere di Porta del Foro e questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.